Se soffrite di vertigini, distogliete immediatamente lo sguardo. Questi due ragazzi sfidano la morte su un palazzo di 40 metri. Ilya Bagaev e Oleg Kricket, questo è il nome dei due temerari, si cimentano in acrobazie straordinarie sul parapetto di un edificio in Russia. Tra capriola e balzi nel vuoto, sorretto solo dal braccio dell'amico, Oleg si esibisce in una serie di mosse al limite, rischiando la vita senza alcuna rete di sicurezza al di sotto per frenare una caduta in caso di passo falso. Grazie a tutti!